Maestro, è stata dura spiegare a questi giovani virgulti che la lingua è probabilmente uno degli aspetti più importanti della società e della persona. No, non è stata dura perché hanno fatto appello alla loro esperienza e nella loro esperienza è ben presente l'importanza dell'uso dei dialetti perché ha la fortuna di averlo ancora e della lingua italiana, nazionale. Lei ha detto, nel corso del suo intervento, che le nuove tecnologie non sono strumenti che limitano ma vanno usati in maniera corretta. Lei quando guarda queste nuove generazioni, quando guarda i più giovani, li vede più incerti nella crescita per il modo, probabilmente errato, di usare la tecnologia? Guardi, abbiamo molte indagini internazionali, non abbastanza, ma molte, dalle quali sembra chiaro che specialmente se gli insegnanti sono esperti nell'uso delle tecnologie, i risultati per le giovani generazioni sono eccellenti e anche se gli insegnanti non sono all'oltezza riescono a avere buoni risultati non solo nell'apprendimento, nello studio, nello sviluppo dell'intelligenza e del sapere, ma nella vita di relazione e nell'intreccio di relazioni, anche a grande distanza, che è un fattore importante di sviluppo delle persone. Qual è, secondo lei, la qualità di questo paese, del sistema Italia più che altro? Rispetto ai paesi d'Europa è vero, siamo indietro, siamo in ritardo, siamo più lenti, però ci sarà una qualità in questa benetrazione oppure siamo davvero messi così male come io credo, ma non conta il mio parere, insomma, conta quello suo. Io, a diverse riprese nella storia anche recente del paese, è stato molto importante il fai-da-te, lo sviluppo di un entusiasmo collettivo nel realizzare cose che non venivano né suggerite, né imposte, né favorite dai gruppi dirigenti. La storia della scuola è punteggiata da questo slancio che è venuto prima dalle famiglie, dalle ragazze e poi è stato non impedito dai gruppi dirigenti, ma ci sono tanti altri esempi di questo nella nostra storia. Quindi io credo che abbiamo bisogno di fare appello a queste nostre risorse, ma naturalmente questo richiede un qualche entusiasmo, richiede qualche fiducia. E qui sarebbe importante che ci fossero delle leadership nella vita sociale capaci di guidarci su questa via. e per ora mi pare che non le vediamo, non le riconosciamo e quindi restano solo i molti dati negativi, a cominciare dalla disattenzione, a mio avviso, grammatica e colpevole per la scuola, l'istruzione e l'interruzione. Le ultime domande, poi le lasciamo andare. Tra le domande degli studenti a cui lei ha risposto alla fine della lezione, molte erano incentrate sulla presenza e sull'influenza dello straniero, cioè della persona che viene da fuori, da fuori ai nostri confini, nella cultura e nell'economia. E' un problema sentito, c'è molta disinformazione, c'è poca conoscenza del fenomeno. Probabilmente questi ragazzi sentono in tv, in casa, quando escono dei concetti profondamente sbagliati. Certamente i meccanismi e le informazioni sono perversi. Se uno di noi fa il mascalzone, se uno di noi nati in Italia fa il mascalzone e investe sulle strisce un poveraggio, il titolo è Grave incidente. Se alla guida c'era un rumeno, un serbo, un croato, il titolo è Croato investe sulle strisce, rumeno investe sulle strisce. Questo fissa stereotipi negativi assolutamente inostificati e ci fa dimenticare i dati di fondo. Questo 7% di persone non nate in Italia che vengono tra di noi sono una ricchezza, anche se strettamente economico produttivo, per il paese e per le sorti della natalità. E' molto importante. Ed è ridicola la presenza di questi stereotipi quando si pensa alle percentuali di immigrati in Germania, in Gran Bretagna, in Francia, enormemente superiori al nostro modesto 7%. L'ultima domanda. La ricostruzione di questa città, lei ne ha parlato, perché qualche domanda si metteva su questo tema. Passa anche per un recupero del dialetto o dell'identità linguistica? Credo di sì, dell'identità culturale e dell'orgoglio delle proprie tradizioni. Credo che questo può essere un fattore molto importante. Però c'è un'influenza sui soldi che dovranno essere spesi. Lei ne ha parlato ed è stato anche molto duro. Cioè ci sono dei movimenti di denaro che vanno verso certi personaggi, certe cricche. Quindi sono collegate queste due cose. Cioè il recupero linguistico non può prescindere dal... Deve essere un recupero di cultura e di capacità di intervento e di controllo. Grazie.